E la diffusione del coronavirus sta avendo sempre più impatto sugli affari delle aziende. Di queste ore l'annuncio delle multinazionali Avidas e Nike di chiudere della chiusura della maggior parte dei loro negozi in Cina. Ma quali sono i settori maggiormente coinvolti? Lo vediamo in studio con Alessandro Marchetti. La Cina, da cui è partito il virus, avrà sicuramente i danni maggiori. Quella che è l'economia che rappresenta quasi un terzo del PIL mondiale, secondo Oxford Economics dovrebbe avere quest'anno due punti di crescita in meno. E non dimentichiamo che la Cina è il più grande mercato di consumatori, ma in un'economia globalizzata, lo vediamo insieme con le grafiche, ovviamente se l'economia cinese ha dei danni, dei ricadute, sono per tutti i paesi che sono interconnessi. Vediamo anzitutto il settore auto. C'è una stima di calo delle vendite solo per il mercato cinese fino al 30% in meno nei primi due mesi dell'anno. È una stima che fa l'associazione China Passenger Car Association, che riunisce non soltanto i costruttori locali, ma anche i concessionari. Detto questo, dicevamo, le ricadute sono per tutti, soprattutto anche per altri costruttori. Ad esempio Hyundai e Kia Motors hanno deciso di chiudere le fabbriche che hanno in Corea del Sud, questo per la carenza di forniture di componenti che arrivano proprio dalla Cina. Così come, vedete, la Toyota ha deciso di sospendere la produzione in Cina fino al 9 di febbraio. Non dimentichiamo che la provincia di Wuhan, da cui proviene il virus, tra l'altro, è la capitale cinese dell'auto, dove sono presenti non soltanto i costruttori globali, ma anche tutti i principali fornitori. Vedete, anche un gruppo europeo, come il gruppo PSA, ha deciso anche di reimpatriare il 38 dipendenti presenti nella provincia di Wuhan. Ma andiamo avanti rapidamente, perché sono presenti tante aziende italiane in Cina, tante multinazionali, e Equitasim, una società finanziaria, ha fatto un elenco di quelle che sono più a rischio. Come vedete, una delle più a rischio è ST Microelectronics, che produce componentistica elettronica, elettronica di consumo, ma molte aziende manifatturiere sono aziende come De Longhi, Safilo, Essilor, Luxottica, Fila, Aquafil, ma anche un'azienda meccanica come Danieli. E poi, lo citavamo prima, ci sono le aziende dell'automotive, in particolare Pirelli, Piaggio e Brembo. Andiamo avanti rapidamente per citare quello che è forse il settore che nell'immediato paga i danni maggiori, ed è il turismo. Se ne è parlato molto in questi giorni, nell'Italia, per quanto riguarda il mercato italiano, una stima più recente l'ha fatta la CNA, che ha sondato le agenzie di viaggi. Ebbene, queste dicono che, per quanto riguarda le prenotazioni da e per l'Italia, parliamo di viaggi internazionali, da qui al 28 febbraio c'è un 4% di disdette. Si arriva al 3%, un po' meno, quindi una percentuale più contenuta, da qui al 30 di marzo. Dopodiché, vedete, la stima, forse ancora più preoccupante, è quella sui consumi. Un meno 4 miliardi e mezzo di spese in meno dovute al coronavirus, proprio in Italia, in particolare ovviamente da parte di consumatori cinesi, un dato che fa Istituto Demoscopica. Sono cifre queste che potrebbero peggiorare nelle prossime settimane se ovviamente continuerà a diffondersi il coronavirus.